Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo all'avvio su Elden Ring ho riscontrato dei vari problemi dopo la patch 1.13 quindi in questo caso se io adesso vado a cliccare gioco avvia può essere che qualcosa non va tipo per esempio lì c'è anti cheat che non funziona sul gioco e quindi mancano alcune cose nella sua cartella può essere che l'antivirus ha cancellato questi nuovi file aggiuntivi nel gioco quindi usciamo un attimo ok faccio un attimo così vado su Windows Defender vado su protezione da virus e minacce vado su gestisci impostazioni vado su esclusioni aggiungo rimuovi esclusioni aggiungi un'esclusione e metto così la cartella di Elden Ring seleziono così la cartella una volta selezionato chiudo un attimo qua puoi anche disconnetterti dal tuo account stream e rifare l'accesso oppure chiudere il stream del tutto e riaprirlo una volta fatto andiamo sulla rotella proprietà file installati verifica integrità dei file del gioco e non ci resta che aspettare 32 file non sono stati convalidati verranno discaricati una volta discaricati così questi file chiudiamo un attimo qua ora se hai problemi con i driver riguardo a Elden Ring puoi sempre aggiornarli quindi puoi vedere su Windows Update se devi fare qualche aggiornamento verifica disponibilità aggiornamenti vedi se devi fare qualche aggiornamento oppure aggiornare la propria scheda video attraverso il programma per esempio io ho scheda grafica in video aggiornando tutto su Nvidia App vado su Driver e Driver Studio o Driver Gamer aggiornando per vedere se devo fare qualche aggiornamento oppure puoi aggiornare la scheda attraverso gestione dispositivi quindi gestione dispositivi schede video eccola qua tasto destro sopra, aggiornare driver, cerchi driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili clicco questa, faccio avanti e scarico e installo l'aggiornamento ora non mi resta che avviare il gioco e il gioco si sta avviando senza nessun problema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video non solo di Elden Ring ma anche di un altro gioco ci ho fatto anche guide su altri gioco quindi anche quelli di Call of Duty Fortnite quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao ciao